Ciao ragazze! Oggi video importantissimissimo, non vedevo l'ora di farvelo e praticamente sono le due, due qualcosa e ve lo sto facendo in diretta innanzitutto voglio dirvi che sono felicissima e sono contentissima del riscontro che mi avete mostrato in questo giveaway siamo diventati in tantissimi, adesso siamo arrivati a 300 iscritti e partendo da 100 iscritti per me è un traguardo stupendo che non immaginavo di raggiungere ma la seconda cosa che volevo dirvi era che come avevo già accennato all'inizio di questo canale non ci sarà soltanto questo giveaway ma ce ne saranno veramente tanti altri quindi vi consiglio di rimanere sempre sintonizzati su questo canale perché fra una settimana circa per festeggiare 300 iscritti ho deciso di fare un altro giveaway e stavolta come vi avevo promesso sarà un giveaway a tema nail art quindi mi raccomando state sempre su questo canale, rimanete sempre attenti a questo canale perché veramente ci saranno tantissimi 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 giveaway e saranno di vario genere quindi sarà bello vedere quanti risponderanno a seconda del tema che ho scelto per i vari giveaway quindi bando alle ciance e ciance alle bande come dice Fabio e adesso andiamo subito a vedere chi ha vinto il primo dei miei giveaway ecco qua come potete vedere questo è il mio computer e adesso vi mostrerò la procedura che ho deciso di utilizzare appunto per l'estrazione finale è il sito random.peaker dove appunto vi sarà l'estrazione tramite i commenti quindi è un sito molto molto più semplice da utilizzare quindi vado direttamente sulla pagina del sito non so se mette a fuoco spero che si veda qualcosa vado sulla pagina del sito random.peaker ecco random.peaker random.peaker.com clicco su questo sito così ok poi la cosa successiva devo andare sul mio sito quindi vado sulla mia pagina youtube vediamo se apri ok questo è il mio canale sta caricando vado sul video del giveaway eccolo qua speciale 100 iscritti vado proprio sul video e prendo l'url del video quindi lo copio qua posso chiudere vediamo se ce la faccio chiaro ce la puoi fare e inserisco l'url qua all'interno del sito non riesci a caricarli vediamo ce la possiamo fare eccolo ce l'ha fatta come potete vedere ha caricato il giveaway quindi adesso andiamo a vedere il vincitore e ha vinto in diretta ve lo dico un arch and shell decoror et de vie con la scritta partecipo tadaaa complimenti alla vincitrice adesso vado a controllare ma sono quasi sicura perché questa ragazza mi scrive anche su instagram quindi vado a controllare su instagram se no vado a controllare scusate sul sito di youtube se ha la se ha l'iscrizione aperta vediamo dunque devo andare su la mia pagina ok dashboard sto facendo un casino visualizza il canale iscritti 301 e vado a controllare che sia iscritta al canale eccola qua trovata ragazzi ve la segno eccola qua un arch and shell de color et de vie spero che si legga così scusatemi che è iscritta da un mese e ha partecipato al giveaway rispettando esattamente tutte le cose che avevo chiesto quindi congratulazioni alla vincitrice sono molto contenta per te complimenti quindi alla ragazza che ha vinto questo giveaway sono contentissima per te anche perché questa ragazza mi segue anche su instagram quindi so che mi segue veramente dappertutto e mi fa veramente piacere che abbia vinto anche perché ci siamo sentite varie volte in privato su instagram e devo dire che è una ragazza carinissima spero veramente che questo giveaway vi sia piaciuto che questo video vi sia piaciuto e vi sia piaciuto il modo in cui ho fatto vedere che appunto estraevo la persona fortunata ricordo la fortunata che avrà una settimana di tempo per mandare alla mia mail che è il suo indirizzo con il quale appunto che utilizzerò appunto per inviarle tutto il pacchetto e vi ricordo inoltre che vi saranno tantissimi altri giveaway come vi ho detto all'inizio quindi mi raccomando rimanete sempre sintonizzati e se volete rimanere sempre aggiornati in particolare qua su youtube c'è una campanellina da schiacciare che vi permetterà appunto di vedere ogni volta che esce un mio video quindi mi raccomando schiacciate il campanellino e iscriveretevi alle mie pagine facebook e instagram in particolare di instagram perché ve l'ho già detto io veramente carico tantissimo tantissimo su instagram quindi spero di trovarvi tutti lì io vi auguro una buona giornata vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo giveaway ciao ciao